amici dei pesci buon pomeriggio con la mia rete alle spalle scusatemi ma sto ancora finendo di sistemare e quindi ne vedrete per un altro po di tempo non so dove metterla sinceramente comunque amici dei pesci buon pomeriggio bando insomma un po queste queste stronzate ogni tanto lo faccio anche per per sorridere guardate un po che faccia oce sono bianca come il cadavere allora come vi avevo promesso c'è per voi l'oroscopo mensile proprio di questo mese marzo 2022 vi ricordo di iscrivervi al canale spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati mettere un mi piace al video per supportare comunque il canale e chiaramente andiamo avanti adesso nella massima tranquillità anche con gli oroscopi settimanali riprendiamo dopo il mio mese mese e mezzo insomma di fermo che c'è stato riprendiamo di nuovo questa questa attività allora carissimi pesci vediamo un po cosa dicono queste carte allora innanzitutto dovete togliere le bende avanti agli occhi dovete guardare la situazione in altri modi e dovete comunque prendere delle decisioni importanti su un qualcosa che vi sta creando dolore questa è una grande scelta che dovete andare a fare cioè proprio non riuscite questa cosa vi sta mandando talmente nel pallone talmente in tilt che non riuscite più a guardare quelli che sono i vostri obiettivi e in questo momento siete talmente così egoisti che tenderete anche in questo mese ad essere manipolativi c'è troppa energia negativa probabilmente perché lì dove dovete prendere questa decisione è un qualcosa di molto pesante un qualcosa che probabilmente vi sta soffocando però ripeto c'è tanta energia negativa avete anche con gli altri un atteggiamento di controllo ripeto manipolazione per forza che volete controllare rivalutate le vostre la vostra situazione ok e cercate la verità solo ed esclusivamente in voi stessi perché solo il vostro io il vostro la vostra anima il vostro interno che vi può dare comunque sia delle risposte che altre situazioni o altri modi o altre persone non vi possono comunque dare dovete ripeto togliervi queste bende vi dovete svegliare perché avanti a voi ok c'è un qualcosa di positivo e potreste non cogliere l'occasione perché questa cosa questa situazione questo questo fatto queste persone che vi stanno offuscando la la vostra visuale e non riuscite a guardare oltre la positività che c'è più avanti e quindi potreste perdere determinate occasioni o un'occasione in particolare quindi cercate di superare questa determinata delusione magari che vi ha potuto mettere questa pesantezza addosso e cercate di vedere di guardare positivo avanti a voi avete una dipendenza da un qualcosa o da qualcuno non riuscite a liberarvi di di questa situazione o di questa persona dovete fare un esame di voi stessi e dovete andare proprio all'origine del problema in amore potreste magari essere legati a tutt'altro anziché invece essere innamorati ok e quindi proprio perché siete legati a tutt'altro nel rapporto di coppia per chi ha un rapporto di coppia ci può essere ci potrebbe essere una una crisi per invece i single che sono legati a tutt'altro magari non hanno neanche voglia di intraprendere una relazione potreste avere una crisi con voi stessi proprio perché non avete bisogno che di dare o andate in tilto proprio perché il vostro tempo continua ancora a farvi rimanere soli e quindi magari andare in crisi per questo nel lavoro invece potreste avere dei problemi di competitività ok avete dentro di voi della della sofferenza una mancanza di soddisfazione è come se vi foste rassegnati di fronte a una determinata situazione tirate fuori le energie positive anche nell'ambito lavorativo perché comunque sia verrete ripagati ok con un qualcosa di buono con un buon lavoro che fate quindi datevi una smossa io vi ringrazio vi auguro un buon proseguimento di giornata e ci sentiremo ci vedremo questo fine settimana per l'oroscopo settimanale vi mando un bacio e ricordatevi di supportare un canale con un semplice like grazie a voi grazie